Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! 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 Sì! Il rap... Io non lo conosco, sai, frà? Ce la dobbiamo godere! Ce la dobbiamo godere! Qua c'è il video... Stavo accendendo l'iGos con la sigaretta, vabbè... Clippate, voglio! Questo momento epico! Ho finito il gioco, signore! Ho vinto io! Signori telespettatori, benvenuti in questo mio stream. Sono partito a dicembre, gennaio, che pesavo 170 kg. Adesso sono arrivato a 138.9, 139 kg. Quindi, ricordate allo spettatore, non me lo chiedere più! Grazie! Annaccia... Sfietta un attimo! Sfietta un attimo! Sfietta un attimo! Sfietta un attimo! Ma che stai facendo? Sfietta un attimo! Sfietta un attimo! Non! Non, fermo! Fermo! Sfietta un attimo! 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 Fietti un attimo! Sfietta un attimo! Sfietta un attimo! Ma? Hè vero la motta? Mh che è successo? Che è successo? È crashato? Sotto steal Gioco di merda Mungolfiera, 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 la vedi? Sì Non è no Che devo fare lei? Non va, che caccia fa? Non ci muovo, faccio il figlio, non ci muovo Non ci dice questo, non ci muovo Non ci muovo, non ci muovo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi ha fatto cagasotto. Mi ha fatto cagasotto. No, Ricci, questo possibile fa rumore strano. No. No, 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 no. Porca che signorina buonasera, signorina. Asp, mi ha già fatto ma... Mamma mia. Ok. Ok. Ah, siamo al 50%. Secondo me è un po' più del 50% qua. Vediamo. Ok. Ok. Sì, 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 sì. Fermati, fermati, fermati. Mi fai un piacere di legarti le mani con una fascetta? E te le metti dietro la schiena perché devo vedere che non ti metti le mani davanti agli occhi? No, no, ci sto già preschendo. Non ci stanno già... Allora, mi cagò sotto pure io. Allora, questo è chiuso. Ok, perfetto. Se non è... Controllo si abbassa. Mi sono cagato sotto pure io, onesto. Mi sono cagato sotto pure io. Mi sono cagato sotto pure io. Ho chiuso tutte le cose. Mi sono cagato a mano. Che cazzo è qua? Che roba è? Ma che cosa è sta roba? No, aspetta, aspetta. Asp, asp... Sto chiudendo una poche cose, se ne hai fatto due. Eh no, eh... Ma ma il gioco dove sta? Ho creato un documento Excel. Eh... Ok, metti il gioco. No, siamo ron. No, no. Gesù Cristo. Gesù Cristo. Gesù Cristo. Che la puttana è nonno. Mannaccia Gesù Cristi. Mannaccia puttana... C'è gente m***a. Ma che sei e non si è un testo? E, secondo... Eётся capire il mio, Il mio tempo è stronzato. E la scarsa è stata sfersa. E la scarsa proprio. Che inizia? Ti prego, ti prego. Ti prego, ti prego, ti prego, fermati. Ti prego. Ti prego, fermati. Ti prego, fermati. Porco dio. la Madonna addolorata, Gesù Cristo... Gesù Cristo... Gesù Cristo... Gesù Cristo... Gesù Cristo... Grazie.